Settima corsa premio Borina un miglio per l'anziani categoria F anche questa seconda Tris sono 12 al via Tesis GV, Tonegette, Tristano Luis, Suami Gams, Spirite Dasolo, Ilkan, Tinafoto SM in prima fila Unico Jet, Principe Desi, Unicum B, Pablo Di Jesolo, solo Dasolo in seconda fila 100 metri allo stacco della macchina All'esterno dello schieramento sono lanciatissimi Spirite Dasolo e Oilkan Al cui interno c'è Tristano Luis, poi Suami Gams con all'interno Tonegette E' passata di slancio Oilkan con Romeo Gallucci mentre insiste Spirite Dasolo E riesce a sua volta a scavalcare Tristano Luis per guadagnare la seconda posizione Lancio vehemente da parte di Oilkan e Romeo Gallucci che ora cercano di riprendere in mano Ma il quarto iniziale va via comunque in 28 e mezzo Terza posizione per Tristano Luis all'esterno Suami Gams, suo malgrado scoperta Che si trascina Pablo Di Jesolo, poi in terza ruota solo Dasolo Che è seguito da Unicum B, al cui interno si inserisce Principe Desi Poi tutti gli altri Gruppo che si fa molto compatto all'apice della seconda curva Con Oilkan che viene gradatamente avvicinato da Suami Gams Metà gara in un minuto e poco più Sempre in terza ruota Tesi GV con all'interno Pablo Di Jesolo Addirittura costretto in quarta Unicum B Lungo la corda Tristano Luis Suami Gams che ora va all'attacco di Oilkan Mentre Pablo Di Jesolo attende l'arrivo di Unicum B Che finisce col rompere Suami Gams che passa facilmente su Ilkan Ma si trascina pericolosamente Pablo Di Jesolo Poi in corda c'è sempre Spirit Dasolo Al cui esterno sposta bene però Tristano Luis Seguito da Ottone Jet Con Suami Gams in fuga da Pablo Di Jesolo Che però non si dà per vinto Quindi ancora Ilkan davanti agli altri che sono più indietro Lottano Suami Gams e Pablo Di Jesolo Mentre fra gli altri sta cercando di emergere a centropista Ottone Jet insieme a Principe Desi Nel finale Suami Gams che si svincola chiaramente da Pablo Di Jesolo E vince Mentre per il terzo c'è lotta con probabile prevalenza forse di Ottone Jet Che rientra a Principe Desi Da rivedere per il terzo sul mio cronometro 1.58.4 per Suami Gams che va davvero forte 1.14 secco La media per la figlia di un ronometro in coppia con Vincenzo Luongo Cavalla che va davvero forte e che alla fine ha chiuso da favorita 1.96 che vedete sfugge con facilità a Pablo Di Jesolo 4.11 Poi andiamo nuovamente a vedere per il terzo Con lo scorrere delle immagini Ottone Jet all'interno rientra a Principe Desi E quindi dovrebbe essere 4.11.2 L'arrivo ufficioso della settima di Capanelle